Pogba, tra i luoghi che frequenta Paul Pogba a Torino ci sono anche quelli dedicati al mangiare ovviamente allora nella nostra ricerca siamo nel centro di Torino, nel locale di Aydin al quale chiediamo Pogba viene qua a mangiare? Sì, veniamo ogni tanto a mangiare qua, praticamente passa più tardi la serata non si ferma qua perché vuole andare via subito, fa portare via di solito mangia pizza kebab e kebab, cioè secondo me lui piace kebab quindi passa qua, prende poi scappa Qual è la pizza kebab che prende sempre? Praticamente pizza kebab e pizza margherita, come pizza italiana, pizza margherita poi là sopra mettiamo la carne, queste verdure che vedete qua, insalata, pomodoro poi mettiamo la salsina, quindi i genti li piace più molto, bello abbondante e quindi la Pogba gli piace tanto, poi Analkia anche, è venuto qua tre, quattro volte anche lui ha mangiato la pizza kebab, gli è piaciuto tanto Hai pensato magari a fare un piatto dedicato a Pogba, non so, il kebab alla Pogba Sì, va bene, dai Come potrebbe essere il kebab alla Pogba? Ma, bello abbondante di carne e bello abbondante di piccante Lui mi piace, cioè, l'ho visto da lui che le piace molto piccante perché mi chiede sempre di mettermi di più, cioè, mettere di più piccante quindi ho visto che mi piace piccante, un po' di più carne, vabbè, dai Pogba li facciamo un po' di speciale, no?